Una buona serata e ben ritrovati a tutti voi da Prato 7, il nostro appuntamento settimanale in cui ripercorriamo insieme le notizie principali degli ultimi sette giorni. Partiamo allora dal lunedì 26 aprile con il ritorno ufficiale di tutta la Toscana in zona gialla, riaprono dunque bar e ristoranti, ma tavolini solo all'aperto e coprifuoco limitano la ripartenza, dicono. Li abbiamo sentiti. Quando la Toscana festeggia il suo primo giorno in zona gialla, bar e ristoranti tornano a lavorare non più soltanto con asporto e domicilio. La grande novità prevista dall'ultimo decreto del governo Draghi è infatti proprio il via libera ai locali. Possono tornare ad accogliere i clienti normalmente, però soltanto bar e ristoranti che hanno spazi all'aperto, mentre all'interno delle attività resta ancora off-limits. L'altro sostanziale cambio con il passato è che cade il limite orario delle 18. Con queste nuove disposizioni gli esercenti pratesi si preparano dunque a ripartire, per la verità non tutti, visto che c'è chi ancora prende tempo, in attesa di vedere le reazioni della gente. Ad ogni modo in centro storico, tavolini e sedie, sono comparsi già da questa mattina in molte vie e piazze, pronti per ospitare pranzi e cene all'aperto, meteo permettendo. Ci siamo allargati anche su questa parte di via Mazzei, lo spazio pubblico non manca e cerchiamo di stare aperti sette sere su sette, anche se comunque l'orario è stretto per via del coprifuoco alle 10. Pranzo, sabato e domenica cerchiamo di coprire tutte le fasce orarie possibili. Continueremo sicuramente con l'asporto e la delivery. Quante persone potete ospitare all'aperto su tutti i due i lati delle strade? Su tutti i due i lati si arrivano una cinquantina di persone, rispetto alle 80 che riuscire a mettere senza distanziamento obbligato. Ho comprato gli ombrelloni per cercare di mettere dei tavoli sotto gli ombrelloni al coperto, eventuali acquazzoni forti verrà rimandata la serata. Credo, sono fiducioso, diciamo che si lavori tanto perché la gente non ne può più, vuole uscire, vuole stare un po' fuori e speriamo con la pizza di attirare tante persone. Voi avete scelto di non utilizzare il metodo della prenotazione, perché? Sì, abbiamo scelto di non utilizzare il metodo della prenotazione per velocizzare l'andamento dei tavoli, proprio per dare una maggiore disponibilità a tutti i clienti. Il grande rebus per tutti i locali resta al coprifuoco, però la fermo alle 22, che si traduce in sostanza in un turno unico. Questo limite temporale quanto pesa sulle vostre attività? Coprifuoco secondo me non è una buona idea perché concentra la gente tutta nella stessa ora, cioè dalle 6, che poi alle 6 nessuno cena, quindi dalle 7 alle 9, 9 e mezzo, perché poi alle 10 c'è il coprifuoco. Quindi in due ore fai un turno solo, però tutto concentrato. Se siamo aperti, secondo me è giusto stare aperti fino a mezzanotte i ristoranti e i pub anche più tardi, come è sempre stato. Adeguamento in corsa anche per i bar, dove si torna a gustare cappuccino, caffè, brioche, seduti e all'aria aperta. L'augurio è di non ritornare indietro, l'augurio è che si possa vaccinare al più presto tantissima gente e l'augurio è per noi nel settore della ristorazione che finalmente si possa dare via libera perché si sta avendo grandi problemi. Sfreggiato al volto in pieno giorno, regolamento di conti nel mondo dello spaccio. Sentiamo i dettagli. È stato sfregiato in maniera permanente al volto in pieno giorno a Mezzana. La vittima è un trentenne di nazionalità marocchina, aggredito lo scorso 25 marzo da tre connazionali, nei confronti dei quali la procura ha emesso oggi altrettante misure di custodia cautelare in carcere. Il contesto è quello del commercio al dettaglio di cocaina e hashish, tra Campi Bisenzio, Calenzano e Prato. Il taglio è stato effettuato con un gancio da traino e un taglierino in via Viottolo di Mezzana alle 12.30. Sono stati gli stessi cittadini che hanno assistito alla violenza ad allertare il 112. Questa lesione così grave, inferta al volto della persona offesa, ha la finalità proprio di marchiare quella persona. Un marchio di, secondo questa subcultura, un marchio di inaffidabilità. Si inserisce nel contesto, con ogni probabilità, della commercializzazione di sostanze stupefacenti, quindi un'inaffidabilità verosimilmente nella gestione dei rapporti economici, potrebbe essere per esempio un debito non pagato, però ovviamente poi il marchio che porta la vittima, prescinde dalla singola motivazione, lo segna indelebilmente nell'immaginario dei suoi connazionali. Le indagini condotte dalla squadra mobile hanno consentito di risalire al domicilio di fortuna dei tre aggressori, localizzato a Calenzano, dove in effetti sono stati trovati sia il taglierino che il gancio da traino. Due dei tre marocchini, tutti trentenni o poco più, sono irregolari sul territorio e con vari precedenti alle spalle, alcuni dei quali di natura violenta, tra cui lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il terzo è incensurato e irregolare in Italia, arrivato da poco dalla Spagna. Viene loro contestato il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti, secondo l'articolo 583 Quinques, che prevede la reclusione da 8 a 14 anni. Cambiamo argomento e parliamo del teatro Metastasio, che riabbraccia il pubblico dopo oltre 400 giorni. E da ottobre cambia direttore, Civica subentrerà a Dippolito. Dopo oltre 400 giorni, il teatro Metastasio torna ad abbracciare il proprio pubblico. Lo fa con Esserci di nuovo, sei spettacoli dal 6 maggio al 20 giugno, negli spazi di Via Cairoli e del Fabricone, ridisegnati in sicurezza con le vigenti normative anti-covid. Si parte col Don Juan, in scena dal 6 al 9 maggio al Metastasio, con protagonisti 16 danzatori di Ater Balletto. Si continua dall'11 al 16 maggio al Fabricone, con le nozze di Chekhov, e poi dal 20 al 23 maggio, con Domani e un altro giorno, di Ron Hutchinson. A seguire, dal 27 al 30 maggio, andrà in scena il Fabricone 89, di Elvira Frosini e Daniele Timpano. Dal 3 al 6 giugno, Misericordia, al Metastasio, scritto e diretto da Emma Dante, e infine chiusura dal 17 al 20 giugno al Fabricone, con La Grande Abbuffata, tratto dall'omonimo film di Marco Ferreri. Gli spettacoli si terranno alle 19 dal martedì al sabato e alle 18 la domenica, questo per rispettare le restrizioni imposte dal coprifuoco. La ripartenza degli spettacoli al Metastasio ha rappresentato anche l'occasione per annunciare il cambio del direttore in via Cairoli. A ottobre, dopo 6 anni, lascerà Franco Dippolito. A prendere il suo posto sarà Massimiliano Civica. Finisce questa meravigliosa avventura che sono stati questi 6 anni di direzione, a cui io poi aggiungo i 3 anni vissuti dal 2007 al 2010 come direttore organizzativo insieme a Federico Tiezzi e credo che sia giusto, dopo 9 anni, rinnovare gli input. Cercheremo di fare quello che è giusto per un teatro pubblico, cercheremo di stare dalla parte degli artisti per servire il pubblico, perché più mettiamo gli artisti in condizione di lavorare bene, più faranno spettacoli che saranno in grado di soddisfare il nostro pubblico. Cercheremo di essere un teatro pubblico che investe non solo sugli spettacoli, ma anche sulla cultura. Via Bartolini, cantieri infiniti e tanti disagi. I residenti protestano, nelle ultime settimane non si è visto neppure un operaio. I disagi sono tanti, oltre alla sporcizia, oltre al cattivo odore delle fogne che sono aperte, oltre al blocco, tanti sono i disagi. Quindi vorremmo sapere un attimino come e quando e che cosa soprattutto ci aspetta. Più che una strada, via Lorenzo Bartolini è ormai da quasi tre lunghi mesi un cantiere a cielo aperto. I lavori di Publiacqua, iniziati a febbraio, come ci riferiscono i residenti, sembrano non avere fine e a farne le spese sono gli abitanti di questo pezzo del centro storico. Tran senne, polvere e parcheggi ridotti su Piazza Santa Elisabetta sono solo alcuni dei disagi con cui i cittadini si trovano a dover convivere ogni giorno, senza avere certezze sul termine delle operazioni. Il termine del primo lavoro era previsto per il 19 febbraio. Successivamente sono state aggiunte, 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 aggiunte. Ora sembra il 30 di aprile, ma figuriamoci. Ecco, questo è quanto. Ormai sono tre mesi che questo cantiere è qui aperto e noi dobbiamo praticamente svolgere un percorso ad ostacoli per entrare in casa perché è tutto transennato e come si vede non ci sono nemmeno distanze di sicurezza perché se uno va e uno viene non c'è la distanza rispettata, come le norme Covid che ci sono oggigiorno. Quindi è molto complicato e sono fermi da tre settimane che non lavora nessuno. Avete provato a contattare l'azienda? Io ho contattato il Comune, mi ha risposto che faceva presente all'azienda, ma ancora niente. Troppi mesi, non so, un lavoro che magari richiedeva un mese, qualche settimana, è precipitato per le lunghe. Tra le difficoltà maggiori l'accesso è interdetto proprio su Via Lorenzo Bartolini che impedisce ai residenti di entrare in ZTL e arrivare sotto casa con i passeggini o per scaricare la spesa. Hanno fortuna anche che non abbiamo disabili dentro anche lo stabile perché mi dica lei da dove abbia passato una carrozzina o vola o sennò questa è la distanza che c'è. Anche per le borse della spesa è un'impresa? Sì, tocca portare la macchina lì, fare l'elettromarcia, arrivare fin lì, scaricare e portarla a mano perché se no come si fa è impossibile, non c'è altra soluzione. Quindi insomma è un bel disagio, un disagio. Andiamo avanti con mercoledì 28 aprile, superati i 500 decessi per Covid a Prato ma il trend dei nuovi casi conferma la fase discendente. Intanto proseguono i controlli dell'ASL nelle aziende in cui si sono verificati i focolai. In otto sono state riscontrate irregolarità. Ce ne parla Marco Manzo. Sono state 34 le aziende dell'area pratese oggetto dei controlli effettuati nelle prime tre settimane di aprile dal gruppo operativo del Dipartimento di Prevenzione per il Monitoraggio sui focolai Covid segnalati nei luoghi di lavoro. I tecnici della prevenzione hanno controllato le aziende in cui è stata constatata una pluralità di casi Covid. Delle 34 aziende controllate, 10 sono risultate a conduzione cinese. In 8, 6 italiane e 2 cinesi, sono state applicate sanzioni. Altre 8 aziende, 6 cinesi e 2 italiane, sono state trovate chiuse per decisione spontanea dei titolari. Nelle restanti 18 i protocolli anticontagio sono risultati applicati. La gestione dei focolai è risultata sotto controllo con osservanza dei provvedimenti di quarantena da parte dei lavoratori contatti stretti dei casi e applicati gli interventi di sanificazione straordinaria. Le principali criticità riscontrate hanno riguardato l'uso di prodotti non conformi per la sanificazione e l'insufficiente reazione dei locali, l'uso di mascherine non adeguate, cattiva gestione degli spazi comuni con rischio assembramenti. Nelle attività di verifica, i tecnici della prevenzione hanno rilevato la tendenza da parte delle aziende a conduzione cinese di chiudere in modo spontaneo quando si verifica un focolaio. Intanto sul fronte del contagio Prato, con i quattro decessi di oggi, ha toccato quota 502 morti per le conseguenze del Covid dall'inizio dell'emergenza. 89 casi di positività a confermare il trend in calo. Ancora la cronaca, assolte le due guardie giurate in servizio al pronto soccorso accusate della morte di un uomo. Assoluzione piena perché il fatto non sussiste per le due guardie giurate accusate di omicidio peritere intenzionale per la morte di un uomo che nell'ottobre del 2017 si era rivolto al pronto soccorso. Secondo l'accusa, i due vigilantes, allora in servizio al Santo Stefano, avrebbero percosso l'uomo che era andato in escandescenze procurandogli gravi lesioni che lo costrinsero alla sedia a rotelle fino alla morte avvenuta a distanza di un anno dai fatti. E invece al termine del processo con rito abbreviato, conclusasi oggi, il GUP del Tribunale di Prato Pallini ha assolto da tutte le accuse Andrea Priolo e Simone Pagliantini, ordinando la trasmissione alla procura degli atti relativi alla testimonianza della dottoressa del pronto soccorso che aggravò la posizione dei due vigilantes e che potrebbe adesso essere perseguita in un nuovo procedimento penale. Per le due guardie giurate, che a seguito dell'inchiesta hanno perso il posto di lavoro perché destituite del porto d'armi, il pubblico ministero Valentina Cosci aveva chiesto pene pari a 6 anni e 10 mesi e 4 anni e 6 mesi. Grande soddisfazione e commozione alla lettura della sentenza da parte degli imputati e dei loro legali, gli avvocati Michela De Luca, Antonio Cozza e Giuseppe Nicolosi. Oggi la giustizia c'è stata, ha restituito a vita i nostri assistiti perché hanno subito una morte civile, hanno subito una morte civile perché hanno perso il lavoro, hanno perso la dignità, hanno perso la loro reputazione. Oggi è stato restituito tutto questo, il mio pensiero è per loro, spero che ora possano ritornare a lavorare e lasciarsi alle spalle questa bruttissima esperienza. Nel concorso del processo avevate posto l'accento sulle incongruenze relative all'accusa e portando anche i risultati di una perizia che aveva escluso collegamenti con quanto è accaduto. Questo era un processo che con un po' di coraggio poteva essere chiuso il 4 maggio del 2018, quando oggi le carte sono scoperte, noi avete visto non abbiamo mai voluto pubblicizzarlo, questo processo, il nostro dolore, la nostra sofferenza è stata tutta interiorizzata, ma il 4 maggio del 2018 il GIP aveva rispinto la richiesta di carcerazione avanzata dalla procura per l'assenza di gravi indizi di colpevolezza. La procura ha deciso di andare avanti e c'è stato un altro due anni e mezzo di calvario e oggi siamo arrivati però alla soluzione, spero, finale veramente. Prato, città sempre più verde, il viale Leonardo da Vinci diventa un boulevard grazie alla piantumazione di centinaia di alberi. 400 alberi di più di 30 specie diverse piantati in tre aree della città, lungo la declassata per assorbire l'anidride carbonica, diminuire l'inquinamento e favorire la mobilità sostenibile. È questo l'obiettivo del progetto per il Bando Toscana Carbon Neutral che prevede la realizzazione di un impianto integrato di forestazione urbana entre aree all'interno del territorio comunale, tutte le mitrofe a piste ciclabili, parcheggi, fermate degli autobus e alla declassata. Prato ha partecipato con tre progetti, quello per l'area Pecci che prevede la piantumazione di 64 alberi e 37 arbusti per dare vita a un bosco urbano, quello dell'area Nenni nel parcheggio Scambiatore che prevede la piantumazione di 225 nuovi alberi e la depavimentazione del parcheggio per rendere il terreno più permeabile. È quello dell'area Rimini in prossimità della passerella ciclopedonale con la piantumazione di 125 alberi e interventi di depavimentazione. Tanto verde, del resto non è la fase della transizione ecologica, non è questo il futuro delle nostre città, questo è quello che ci viene raccomandato ormai da tutti quanti per provare ad impattare meno sulla nostra terra e soprattutto a vivere meglio. Ecco, con questo tipo di progetti, questi tipo di finanziamenti, noi andiamo esattamente in questa direzione, ne siamo molto soddisfatti, speriamo che questo sia uno dei tanti, che diciamo che questo sia ormai un percorso irreversibile rispetto al futuro di Prato e di tutte le comunità. L'effetto sull'abbattimento delle emissioni di sostanze inquinanti nell'area sarà immediato, con una riduzione di 125 tonnellate di anidride carbonica, del biossido d'azoto e delle micropolveri inquinanti. L'investimento complessivo per il nuovo grande polmone della città monta 650.000 euro, di cui 350.000 finanziati con risorse regionali e 300.000 finanziati con risorse proprie del comune. Il progetto definitivo per le tre aree è già stato consegnato e a breve approderanno nella fase esecutiva con le piantumazioni in primavera e autunno. Il ragionamento che la città di Prato sta portando avanti dal punto di vista culturale ma soprattutto politico è quello di affermare che la natura è prevenzione sanitaria. Noi da anni stiamo lavorando e stiamo promuovendo questo motto molto semplice che è un albero al posto di una pillola che riassume la volontà attraverso la natura e gli alberi nell'ambiente urbano di raccontare un nuovo paradigma che sostanzialmente prevede che gli alberi e la natura nelle città non sono un tema di avvellimento, non sono nemmeno un tema solo di resilienza urbana, ma diventano davvero un tema di salute umana. Musei si riparte il 3 maggio ad ingresso gratuito. Sentiamo tutto il programma delle riaperture. È tempo di ripartenza anche per i musei pratesi. I primi a riaprire le porte e visitatori saranno il Museo di Palazzo Pretorio e il Museo del Tessuto a partire da lunedì 3 maggio. Per quasi un mese fino al 28 maggio l'ingresso sarà gratuito anche se il Museo del Tessuto rimarrà chiuso dal 10 al 21 maggio per consentire l'operazione di allestimento della mostra evento Turandotte e l'Oriente Fantastico di Puccini, Chini, Caramba, frutto di un lungo e accurato lavoro di ricerca compiuto dal museo sullo straordinario ritrovamento di un nucleo di costumi e gioielli di scena risalenti alla prima assoluta della Turandotte di Puccini e provenienti dal guardaroba privato del grande soprano pratese Iva Pacetti. Toccherà poi al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci riaprire i battenti sabato 8 maggio con tre nuove mostre, l'attesa retrospettiva dedicata a Chiara Fumaico prodotta con il Centro d'Arte Contemporanea di Ginevra, la personale della fotografa Maria Alba Russo e la rassegna video After Us curata dall'artista Julian Rosefeld. Dal 15 maggio poi, sempre al Pecci, si aggiungerà Cambio, un progetto multidisciplinare del celebre duo di designer Forma Fantasma incentrato sul ruolo cruciale e la responsabilità del design nei confronti dell'ambiente. La mostra è in collaborazione con la Serpentine Gallery di Londra. Infine il lunedì 10 maggio è prevista la riapertura dei musei diocesani. Una svolta davvero storica per la nostra città, il Prato Calcio cambia proprietario. La famiglia Toccafondi ha venduto la società alla Commini Group. Guardate. È proprio il caso di dirlo. Questa volta è tutto vero. Il Prato Calcio è stato ceduto dalla famiglia Toccafondi. Dopo 42 anni di gestione, la totalità delle quote della società Biancoazzurra sono state cedute alla Commini Group S.p.A., società multiutility con sede a Roma che opera in vari settori merciologici. I nuovi proprietari del Prato, rappresentati da Stefano Commini, che sarà il nuovo presidente, hanno definito l'acquisto della società Biancoazzurra nella giornata odierna, sottoscrivendo l'atto di cessione presso lo studio notarile Francesco D'Ambrosi e Tiziano Casale e associati. La società Biancoazzurra è stata ceduta a zero euro, con il versamento nelle casse del notaio da parte di Commini di un controvalore di 500.000 euro per coprire le plusvalenze che dovranno entrare nei prossimi mesi nelle casse del Prato Calcio, inerenti alla vecchia cessione di Quamè. A livello tecnico, la nuova dirigenza comincerà ad operare dal primo di luglio. Un paio di mesi fa un caro amico, che dopo in conferenza citerò anche se lui non vuole, mi ha fatto innamorare di questa città. Ho trovato tanti elementi positivi, peraltro ho trovato un grande interlocutore in Paolo Toccafondi. Io ho trovato in lui un interlocutore serio, leale, col quale in poco più di un mese siamo riusciti a chiudere la trattativa. Perché vedo in questa città, in questa squadra, tanta potenzialità? Primo da dove partiamo e con l'obiettivo che mi sono precisato dove voglio arrivare. Totalità delle quote, Toccafondi è fuori e la trattativa è chiusa ufficialmente? Assolutamente sì, l'atto notarile è un atto pubblico irrevocabile che ha l'unico effetto, è quello che diventerà efficace al primo luglio. Perché? Perché Paolo Toccafondi si è reso disponibile con grande lealtà a chiudere la stagione sportiva e a coprire tutti i costi del 30 giugno. Il sindaco Matteo Biffoni è apparso soddisfatto dall'operazione e apre al ritorno della squadra bianco-azzurra allo stadio Lungo Bisenzio. Il Lungo Bisenzio è lì, i lavori sono stati fatti, altri devono essere ancora compiuti, però nel senso è pronto, nel senso che ci devono essere fatte una richiesta, ci sarà un percorso formale legato a quelle normative dei comuni, delle pubbliche amministrazioni, però se l'intenzione della nuova proprietà è quella di tornare a giocare a Lungo Bisenzio, ben venga. Si fa pace con Paolo Toccafondi, Vittorio Armando è il tuo presidente del Prato. Personalmente per me poi le cose finiscono, non è questo il punto, anche perché io sono abituato in questa maniera, se ci sarà l'occasione per me non ci sono problemi. È proprio il caso di dirlo, il Prato, volta pagina, questa volta, per davvero. Ancora il Prato Calcio, inizia ufficialmente l'era con Mini, gli obiettivi, Lega Pro, Stadio Lungo Bisenzio e settore giovanile. Senza fare troppi proclami, l'obiettivo minimo è quello ovviamente di ritornare a giocare in Lega Pro, che è sostanzialmente il luogo minimo indispensabile per una squadra e una piazza del genere, una città come Prato, di una struttura, un'infrastruttura come quella di uno stadio che ci auguriamo di poter riprendere in gestione, dando ai tifosi la possibilità di vedere le partite dove le hanno sempre viste in questi decenni. Entro il 15 di luglio il Prato Calcio dovrà indicare uno stadio omologato per disputare la prossima stagione in Serie D. Saremo in grado, tecnicamente, di poter indicare il Lungo Bisenzio come stadio omologato per poter giocare la prossima stagione in Serie D, perché siamo ai primi di maggio? Sì, io penso di sì, a occhio e croce. Guardate, in tempi non sospetti, cioè prima di stamattina l'assessore Lua Vanucci aveva fatto un sopralluogo proprio al Lungo Bisenzio per vedere la situazione, per controllare soprattutto lo stato dell'erba, ha parlato già con il verde pubblico del Comune, gli ha assicurato che l'intervento si può fare senza grossi problemi, però più o meno è stato quantificato anche la somma di denaro che serve, ripeto, già solamente sapere se disputeremo il Prato il Serie D o per esempio la Lega Pro cambia le necessità e le richieste dell'impianto. Io sarò già a Prato la prossima settimana, proprio per cominciare, adesso formalizzerò la mia presenza a Prato a metà della prossima settimana anche al Sindaco, per avviare insieme ai nostri tecnici i primi confronti e fare la richiesta formale, poter tornare a giocare al Bisenzio, per cui dopo neanche 4-5 giorni dall'atto. Io ho ricevuto poche ore fa, qualche ora fa, un messaggio delle società dilettantistiche del territorio pratese, che mi ha mandato a nome di queste società il Presidente del Coiano Santa Lucia, che mi ha dato la disponibilità all'incontro con la nuova proprietà dell'Acciprato, di tutte le società del nostro territorio, per instaurare un rapporto, un dialogo, una connessione fin da subito. Devo dire, guardate, questo messaggio mi ha riempito il cuore di gioia. Assolutamente pronto, lo avevo già detto al Sindaco, anzi mi fa piacere che voi ci avete sollecitato e che il Sindaco ha potuto dare immediatamente la notizia della disponibilità di queste associazioni, di questo settore giovanile. Io sono assolutamente aperto, l'avevo già manifestato, lo confermo qui pubblicamente, per cui sono già disposto la prossima settimana a cominciare a dialogare con queste associazioni. Ci saluta con un bel Forza Prato? Assolutamente sì, Forza Prato, anche adesso, prima che diventi Presidente, ti fiamo oggi perché l'importante è anche far salire questo entusiasmo sin da subito per provare a trasportare la squadra a fine costa. Ed è tutto per questa edizione di Prato 7, grazie per essere stati con noi, l'informazione della nostra rete torna lunedì come sempre con il Tg del giorno delle 13.45. Grazie per averci seguito, una buona serata, arrivederci.